Benvenuti a San Pedro de Atacama. Sono la vostra guida turistica e oggi vi parlerò del famoso Geyser del Tatio. Il Geyser del Tatio si trova ad un'altitudine di circa 4320 metri sul livello del mare, rendendolo uno dei geyser più alti al mondo. Questa posizione nelle altezze delle Ande regala una bellezza naturale unica e paesaggi impressionanti. Una delle caratteristiche più interessanti del Geyser del Tatio è la sua temperatura. L'acqua che fuoriesce dai geyser può raggiungere temperature superiori agli 85 gradi Celsius, creando colonne di vapore e getti di acqua calda. È un'esperienza straordinaria poter assistere a questo fenomeno naturale e trovarsi circondati da vapore e piscine termali frizzanti. Per quanto riguarda la distanza da San Pedro de Atacama, il Geyser del Tatio si trova a circa 90 chilometri a nord-est della città. Il viaggio per raggiungerlo solitamente richiede circa due ore in auto, attraverso un meraviglioso paesaggio desertico. Ora, parliamo del significato dei geyser. I geyser sono formazioni termali alimentate dall'attività vulcanica sotterranea. Queste fonti di acqua calda sono il risultato dell'interazione tra l'acqua sotterranea e il magma caldo che si trova vicino alla superficie della Terra. Il nome geyser deriva dal termine islandese geyser, che significa eruzione. I geyser sono una stupefacente dimostrazione di energia e forza della natura. Sono un promemoria dell'attività vulcanica che avviene sotto la superficie della Terra. Inoltre, i geyser sono importanti anche dal punto di vista geotermico, in quanto rappresentano una fonte di energia rinnovabile e sostenibile. Visitando il geyser del Tatio, avrete non solo l'opportunità di meravigliarvi di questo spettacolo naturale, ma potrete anche godere di un bagno nelle vicine acque termali. Queste acque sono considerate benefiche per la salute e molte persone ne apprezzano le proprietà curative e rilassanti. Ricordate di rispettare le indicazioni di sicurezza e seguire le raccomandazioni della guida durante la visita al geyser del Tatio. L'altitudine può influire su alcune persone, quindi è essenziale rimanere idratati e prendere le precauzioni necessarie. Spero che questa breve spiegazione vi abbia dato un'idea della meraviglia naturale che è il geyser del Tatio. Godetevi la visita a San Pedro de Atacama e la bellezza di questo luogo unico al mondo. Atacama Ancent è qui con voi. La vostra guida turistica virtuale e fisica. Vi aspettiamo a San Pedro de Atacama, Cile. In basso nella descrizione troverete un libro digitale e l'accesso alla nostra guida turistica. Alla prossima video. Grazie